Non sa che pesci pigliare, tanto per restare in tema la marineria pescarese che era già stata impossibilitata a uscire in mare come gli altri colleghi per il caro casoglio e in questo caso anche per l'annoso problema dei bassi fondali. Due imbarcazioni sono rimaste incagliate nel porto e i pescarecci più grandi per forza di cose devono attraccare negli scali vicini come Ortona ma anche qui ci sono problemi per il mare. Ecco come ridotta la barca di Francesco Scordella, presidente dell'Associazione Armatori di Pescara. Allora, innanzitutto mi preme dire a nome della tutta la marineria abruzzese, posso permettermi di dirlo, un piccolo abbraccio ma è come se lo facciamo direttamente ognuno di noi a tutte le popolazioni, all'Ucraina che è colpita da questa grande guerra. Quindi questo è uno dei problemi che secondo me è più pesante di quello che abbiamo noi perché si perdono le vite umane, quindi ci tenevo a dirlo. Poi per quanto riguarda il problema nostro, noi non è che siamo in sciopero, noi siamo praticamente in possibilità di andare a lavorare perché con i costi di gestione che ci sono non è possibile fare attività in questo momento qua. Quindi chiamarlo sciopero è pure brutto, quindi il problema è proprio questo. Si stanno svegliando ora che c'è il problema energetico, ci potevano pensare pure prima. Capisco pure che devono fare le sanzioni alla Russia che giustamente lo devono colpire economicamente, ma prima di colpirlo che non importiamo più il petrolio che è una minima parte però che fa oscillare il prezzo del petrolio ogni mattina, ci si doveva pensare prima un attimino a vedere il paracaduto per tutta l'Europa. Questo mi sa che la mattina non lo so che pesci prendono. E poi le disgrazie non vengono mai da sole, soprattutto per la marineria di Pescara perché si ripropone il problema della secca, due barche sono rimaste incagliate, voi andate a Ortona, siete costretti ad andare altrove, la tua barca è ridotta in questo modo e adesso la telecamera di Luca Corneli la inquadrerà. Mettiamo che domani sul mio problema casolare, ma abbiamo pure quest'altro problema, che sono più di vent'anni che ce lo portiamo dietro. Qua con le alte pressioni ci sono le basse maree perché poi la gente non so se capisce bene la profondità, inutile che dicono abbiamo portato la profondità a tre metri, domani c'è una basse maree di mezzo metro, un metro, quindi il livello scende da solo. Il problema è che le barche non possono manovrare, siamo costretti ad andare a Ortona, ma Ortona non è un porto che ti permette di lasciare la barca e stare tranquillo, questa è la dimostrazione di quello che succede a me ma a tutti i miei colleghi, sono altre barche che hanno altri problemi, quindi hanno subito altri danni, li dobbiamo pagare noi, ma oltre al pagare è che non puoi lavorare tranquillamente, non ti puoi strutturare perché se devo portare la barca a Ortona devo spostare tutta l'attrezzatura, la logistica diventa un problema, i mercati mi si fa tardi perché giustamente è più lontano, quindi ci sono una serie di problemi che non finiscono mai, più dopo ci sono le leggi europee che ogni anno ci mettono il bavaglio perché questa è un'altra schifezza di questo paese, perché questo non è in Europa, che ogni anno ci mettono una riduzione al sforzo di pesca, quindi noi massimo stiamo lavorando 120 giorni l'anno, però poi lo Stato vuole le compensazioni per 365.